Non di elezioni, perché effettivamente poi alla fine in questi giorni abbiamo parlato tantissimo di elezioni e continueremo a parlare di elezioni, ma sem chi a fare il cruciverba con la nostra Sura Aurella. No, no, no. Allora, volevo dirvi che è un appuntamento che so che tantissimi ci hanno richiesto. Andremo avanti ancora oggi, ecco, poi le prossime due settimane, che sono le settimane che precedono proprio le elezioni, abbiamo tutti gli spazi occupati dai candidati. Non ti offendi Ornella, ma dobbiamo lasciare spazio a loro, però faremo qualche altra cosa in giro, in attesa di ritornare la settimana dopo le elezioni, dal 13 febbraio in avanti, tutte le settimane in cadenza settimanale alle 18, probabilmente con la nostra Sura. Prima, nelle ultime, le prossime due settimane, come vi abbiamo detto, è una questione proprio di spazi, ci sono le elezioni, quindi tanti candidati hanno acquistato degli spazi. Tutto qua. Volevo dirvi... Andremo all'esterno. Andremo all'esterno. Allora, settimana prossima però io e l'Ornella saremo il 31 pomeriggio in giro per Como, l'ultimo giorno della Merla, e poi saremo il giorno di San Bias, venerdì 3, sempre al pomeriggio, intorno alle 16, alla famiglia Comasca per parlare di San Biagio e del Panetun. E del Panetun. Mangeremo il Panetun. Mangeremo anche una feta di Panetun, al quale sono invitati tutti. Ovviamente. Cioè, chi vuole venire, tranquillamente, può venire nella nostra sede, dalle 3 alle 5, a mangiare una feta di Panetun. Siete pronti? Siete pronti perché c'è il cruciverba in dialetto? Siete caldi? Siete caldi? Allora, buonasera ad Emanuela, a Clara, a Giuliana, a Oliver e poi anche a Sandra, a Sun Ki Anka Mi. Bene, bene, bene. Sandra, lo dice Sandra. Eh sì, aspetta andare a cantare a fare il falò. Oggi abbiamo detto simpaticamente, ma lei si presta a essere la nostra simpatica giubiana. Quindi va bene. Ciao Sandra. La giubianina. La giubianina. Perché le piscinina, la giubianina. Ciao Sandra, un caro saluto a te e grazie. Allora, sono pronta, anche Clara è pronta. E allora, questo è il nostro super cruciverba. Ho bisogno del tuo ditino. Certo, certo, certo. Ditone. Ma noi iniziamo da qui. Dall'1 verticale. 1 verticale. 1 verticale. Allora, iniziamo da qui, signore e signori, guardate, cruciverba del 26. Io guardo di là. Alessandro, sei pronto? No, non è pronto. Vai dai, allora forza, sbizzarritevi che non c'è. Allora, 1 verticale, vai. Eccolo qua. Pasticciare. Pasticciare. Allora, 1, 2, 3, 4. È un verbo, quindi l'ultima sarà accentata. Sarà una vocale accentata. 8, qua, vai. Allora, pasticciare. Pasticciare, vediamo un po' chi indovina. Vediamo, io sono qua sempre a aspettare. Allora, pasticciare. Vediamo un po' chi arriva per primo. Intanto, un caro saluto a tutti voi. Ciao, anche a Rosina. Saluto anche Dolores, che ha scritto che era ammalata. Ciao, Dolores. E che è il primo giorno senza febbre. Pastrugna, scrive Clara. No. Pastizza, scrive Daniela. No. Burdega, scrive Alessandro. No, sono... Ma come? Non era invece? No. Allora, no. Allora, vediamo un po'. Nei pasticci... Allora, pastiscia. No. Pastiscia, scrive Emanuela, no? No, sono tutti modi di dire, ma non è quello che voglio io. Allora, non è quello che vuole lei. Vediamo un po' se trovate la definizione. Pasticciare, pasticciare. Pastiscia, scrive Emanuela, no? Burdega, no? Pastizza, no? E pastrugna, no? No. Anche perché però è un po' troppo lungo. Quindi, allora, compro la vocale, dice Sandra. Più che una vocale vi do due consonanti. Allora, ecco qua, un suggerimento, due consonanti, SP, SP. Vediamo un po' se indovinate, vediamo un po' chi ci indovina. Io vi aspetto, noi vi aspettiamo. SP è complicata, sta cosa. No, dai. Poi Valerio scrive patuscia, però SP, Valerio, inizia con SP. Spantega. No. Emanuela, no. Guarda, vi do anche una vocale. Sandra, una, cos'è? Una U accentata. No, una U. U, U. Quindi SP è... Quelle che piacciono a te. Esatto. SP, non è spantega, no? Non è. Spa. Spa. Spacch. Spacch. Spertega, scrive Fulvio. Spantega, Sandra, no? E quindi è difficile. Spacchuspa. Spa, eh, buh, non so, vediamo un po' se arriva qualcuno dopo il tuo suggerimento. Spurca, con la C-H. Dai, adesso ormai l'ho scritto quasi tutto. Spacch. No, spa. Spa, spa, vediamo un po'. Spacioga. Spacioga. Come fa esserci la O se c'è la U. Ah, spacciuga. Esatto. Daniela, spacciuga. Daniela, ma anche Lorenza, eh, brave tutte e due. No, anche Alessandro l'aveva scritto per primo. Infatti lui mi sta facendo vedere. Sì, sì, scusa, 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 scusa. L'aveva scritto lui per primo, poi anche Lorenza, Daniela, poi arriva anche Fulvio, poi Marinella. Ciao Marinella, un saluto. Spa, ciuga. Spa, ciuga. Quindi pasticciare è spa, ciuga. Perché spantega vuol dire allargare. Allargare, esatto. Anche Rosina l'ha scritto giusto. No, benissimo. Bravi, bravi tutti. Avete studiato. Faccio la maestra. Su, 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 su. No, spaccuga, no, no, no. È spacciuga. Spaciuga. Spaciuga. Ecco, il termine è giusto. Vai. Allora, il due è facile. Sei pronto col ditino? Due orizzontali. Sono sempre otto lettere. Otto lettere, eccolo qua. Inizia con la P. Ok. Taccagno. Taccagno con la P. Allora, vediamo un po'. Otto lettere. Allora, vediamo un po'. Taccagno con la P. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi arriva per primo. Il primo è arrivato Alessandro. Allora c'è Rosella che intanto ci saluta. Ciao Rosella. Grazie Rosella. Allora, Piugiat. Esatto. Loretta. È tornata Loretta. Sei tornata. Allora, è tornata Piugiat. Poi Pitocca ha scritto Alessandro. No. Quindi è Piugiat. Ah. E poi anche Emanuela però l'ha indovinato. Con due T finali. Esatto. Emanuela, brava anche te perché con due T finale, Loretta ed Emanuela hanno indovinato. Brave, brave. Arrivata adesso Loretta, Sandra o no. Sandra hai perso il treno? Paujat. No. Piugiat. 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 C'è una Pioce e Pidocchio. Pidocchio Rosina no. Questo è Taccagno però ecco sono tutte perché Pioce, il Pidocchio e Pioce però. C'è una piccola barzelletta. Di Piugiat. Che sì, per modo di dire vabbè. Ci sono due amici che vanno in barca e questo qua continua a dargli del Taccagno. Tassete un Piugiat, tassete un Piugiat. Che schede stuf, c'ha palom e la piuta d'entra in del lago. Questo qua mentre sta annegando continua a fare così. Che è Piugiat. Piugiat va bene, perfetto. Braccino corto va bene. Anche sì, va bene anche Braccino corto. Però non è in dialetto. Comunque è Piugiat. Esatto. Poi l'ha scritto anche Clara. Va bene. Allora, facciamo il tre orizzontale. È lungo ma è facilissimo. Sono undici lettere. Eccolo qua. La vedete? Fai vedere il tuo ditino. Ma che bravo. Undici lettere. Vai. Sei la mia letterina. Anche Samy ci saluta dalla Toscana. Ciao Samuele, un saluto, un abbraccio a te. Allora prego. Faccia tosta. Faccia tosta. Allora, faccia tosta. Vediamo un po'. Ecco dai, vediamo se indovinate. Sono undici. Ecco parole. Eccole qua. Undici lettere. Sì, sarebbero tre parole insieme però. Allora, vediamo un po' chi c'è zecca. Allora, faccia de tola. Esatto. Indovina un po'. Alessandro. Loretta. Ma ecco, lei però l'ha scritto staccato. Chiaramente sì. Sì, no, beh, giusto. Io non posso scriverlo staccato. Giusto, giusto. Faccia de tola. Faccia de tola. Quindi brava Loretta. che anche questa sera, insomma, è arrivata all'ultimo, ma ragazzi è stata subito competitiva. Brava Loretta, abbiamo sentito un po' la tua mancanza. Ha scritto faccia da tola anche Federica. Non è da tola, ma è de tola. Sì, sì, scusa, ho sbagliato. Faccia de tola anche Federica. Brava. E poi Michael, un saluto a tutti. Ciao Michael, un saluto anche a te. Quindi la prima è stata Loretta, poi è arrivata anche Federica. Ciao Federica, grazie. Sandra, faccia de tola. Anche l'ha scritto anche lei. E poi sì, anche Clara. Va bene. Va bene, 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 bene. Forza. Allora, andiamo avanti. Ve l'ho detto che erano facili. Anche questa è facile. Il quattro verticale. Il quattro verticale. E ve lo segnalo. Ecco la mia letterina. E qua è il quattro verticale. Allora, pettegola. Allora, pettegola. Pettegola, vediamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Pettegola. Sono sei lettere. Sei lettere. Dai, pettegola. Vediamo un po' chi ci azzecca. Pettegola. Pettegola. C'è la seconda che è una A. Ok, dai. Pettegola. Forza, forza, forza. Vediamo un po' se ci azzeccate. Sto aspettando, eh. Sì, sì. Allora, Cicciarona, scritto è Clara. No, è un po' troppo lunga. Cicciarona, no. Zabetona, Rosina, no. Attenzione, sono sei lettere. Sei, sei, eh. Betoniga, scrive Gianni. Zabetta, con un due T. No, è una T sola. Ah, Sandra, vabbè. Allora, no. Sì, Sandra, Zabetta, poi anche il nostro Alessandro. Alessandro, con una. Che scritto Zabetta, con una sola T. Bravo, Alessandro. Anche Loretta. Poi Clara. Federica invece con due. Lorenza con una, quindi corretto. Brava Emanuela, anche tu corretto. Sì, Clara, l'abbiamo già detto. Loretta anche te. Alessandro. E però, prima di tutti, Sandra. Sandra l'ha messo con due T. Gliela diamo buona? No. No, non gliela diamo buona. Sandra no. No, no. Va bene. Non diciamo Zabetta. Diciamo Zabetta. Allora, no, no, aspetta, aspetta. No, però, anche, ah, no, è arrivato dopo. C'è anche Valerio, che, ma Valerio e Michael, anche loro. Bravo, Michael. Orca Peppa, scrive Rosina. Orca Peppa, sono troppe lettere. No, è un'esclamazione. Ma lo so, l'avevo capito. Ciao, Rosina. Ma lo so, l'avevo capito. Ucapì, ucapì. Ucapì che te capì. Allora, adesso facciamo. Ne mancano due, ne mancano due. Gli ultimi due sono due lette, due verbi. Due verbi. E sono, che lo utilizziamo, li utilizziamo. Allora, iniziamo dal cinque, orizzontale. Cinque orizzontale, sono sei lettere mescolare. Quindi mescolare con una U, U, mescolare. Ecco. Esatto, anche questi sono due parole, perché noi alcuni verbi li utilizziamo con due parole. Allora, mescolare, vediamo un po'. Era rafforzativa, dice Sara. Vabbè, allora dai, forza, mescolare. Rugata. No. No. È sbagliato l'ultima, diciamo, la seconda parola. Allora, ruga su, scrive Rosina. Ruga. Ruga su. 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 Esatto. Ah, brava Rosina, brava. E poi anche ruga su, anche Clara. Anche Lorenza. Gianni, scrive ruga. Anna, cioè, messe da. No. Ruga su. Ezio. Bravo, esatto. Hanno indovinato anche Clara. Federica. Sandra. Ramona, anche Ramona, hanno indovinato. Brava Ramona. E poi anche Michael. Anche lui. Quindi è ruga su. Ruga su. Ruga su. Eccolo qua. Lo vedete? Ruga su. Io non so, a me capita a volte di dire, hai rugato il sugo. Mescolare. In realtà, mescolare. Mescolare, magari non mi viene, però mi viene, hai rugato il sugo. Molto bene, molto bene. Che sta faminga in sci, però. Siamo arrivati, cari amici, all'ultima definizione. Anche questo è facilissimo, dai, c'è già l'ultimo che è già accentato, quindi vi aiuto. Allora, sei, verticale, sì, orizzontale. Orizzontale sono quattro lettere. È facile. Ok. Costruire. Costruire, la seconda è un'accentata. Costruire, vediamo un po', eh? Vediamo un po', allora, costruire, ok? Vediamo chi arriva per primo. Sono quattro. Fa su. 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 Allora, Loretta, Alessandro e Loretta sono arrivati assieme, Emanuela, Federica, Simona e Ezio. Bravi, bravi. Tutti, hanno indovinato tutti. Bravi. Era facile, perché fa su. Noi non diciamo edificare o costruire, diciamo un fa su una casa. Anche Valerio, anche Ramona, anche, no, Michael è ragassù, no, è fa su. No, forse è rugassù, ancora, Michael è ancora su rugassù. Fa su, lo scrive anche Clara e anche Michael. Sì, va bene. Tutti, hanno indovinato tutti. Bravi. Era facile, avevo detto che era facile. Bravi. Perché ho voluto farvi vedere questi due verbi, perché in dialetto ci sono dei verbi che non hanno il corrispondente. Abbiamo visto l'altra volta, non esiste allevare, ma lei tira grande, allevare un fioio tira grande. Oppure, quando noi, almeno io sono abituata, o con i miei nipoti, o con i miei fidici, non gli diciamo sali in casa. Vieni su a casa, vieni su, però lo diciamo in italiano. Vieni su che è tardi. Magari non diciamo saliamo. Ecco, sono tutti termini che noi abbiamo preso dal nostro dialetto. Come, non so, togliere un vestito. Trasfe. Ok, perfetto. Ecco, questo. Ecco, sono modi di dire, esatto, come oggi ci hai spiegato. Bravi, intanto vi saluto ovviamente a tutti, ovviamente. Io, come ho detto in apertura, ma lo ricordiamo ancora, il Super Cruciverba con la nostra Sciura Ornella si ferma per due settimane, proprio perché ci sono le elezioni e quindi dobbiamo dare spazio a tutti i candidati. Quindi nelle prossime due settimane il Super Cruciverba non ci sarà, ma avremo con la Sciura Ornella nella prossima settimana e in quella successiva, cioè le due settimane che ci portano alle elezioni regionali, avremo diverse uscite sul territorio. Cioè usciremo fuori, al posto di fare delle cose in studio, le faremo in esterna. Settimana prossima vi diamo già due appuntamenti che sono martedì 31 di gennaio, l'ultimo giorno della Merla, saremo intorno alle 15.30 in esterna e il venerdì 3 di febbraio saremo invece alla famiglia Comasca intorno alle 16, quindi vi invitiamo a venire, se volete venite lì, faremo il video lì in diretta per San Bias, e quindi mangeremo lì in diretta il panettone, il panettone che è per tradizione. Intanto vi saluta con affetto Daniela, ci scrive Michael, che vi segue appassionatamente. Bene, bello. Bravo, grazie Michael. Saluta Michael e salutaci Daniela. Che non era qua, era non mi ricordo più dove, da dove scriveva Michael, ma non lo so. Non è qui a Como. Ciao Michael, salutaci Daniela, poi ci saluta Clara, poi ci saluta Ramona, 31 gennaio uguale al Fio Genè, al Fio, al Fio Genè. Genè e Genaro, è gennaio. Al Fio Genè, ho capito, va bene. Chi l'ha scritto? Ramona, 31 gennaio uguale al Fio Genè, no ho capito. Allora, Emanuela Ornella, martedì 31, 15.30, venerdì 3, intorno alle 16 per San Biagio. Ha scritto anche gli appuntamenti, brava Emanuela, ecco. Questi appuntamenti che vi ha scritto Emanuela, teneteveli in memoria perché ci saremo in esterno. Quindi io l'asciuro Ornella, non saremo in studio perché, ripeto, ci sono le elezioni, ma saremo in esterna. Emanuela la possiamo assumere come segretaria, grazie Emanuela. Brava Emanuela, salutiamo anche poi appunto Loretta, Patrizia che ci saluta, a Michael da San Fedele in Telvi. Ciao Michael, un saluto a te, a Daniela, a Giovannina che ci iscrive anche lei, a Mari. Ciao Mari, buonasera, un saluto al nostro amministratore. Somma, ah, Feu Genè, Feu Genè, forse voleva dire. Comunque Emanuela, grazie per averci scritto. Fuori gennaio, forse vuole dire. Ah, via gennaio, Feu Genè. Forse voleva dire quello, va bene, vuole dire quello Ramona, vero? Allora, martedì 31 gennaio, 15.30, con la Sciura, poi venerdì 3 alle 16, San Biagio con panettone. Noi vi aspettiamo, vi aspettiamo lì alla sede della Famiglia Tomasca. Allora, se venite noi saremo assolutamente ben felici di darvi un bell'appuntamento e quindi saremo lì assieme. Allora, per chiudere, oggi abbiamo solo due camere. Ah, non puoi fare due? No, la tre non ce l'abbiamo. Aspetta, aspetta, vai sulla uno che sei questa. Che è questa. Ciao! Allora, aspetta, ok. Adesso facciamo una bella transizione, vai sulla due. Eccomi! Ok, perfetto. Adesso aspetta un attimo che facciamo un'altra sciocchezzuola. Torniamo sulla uno. Eccomi! Perfetto. Beh, Sciura, grazie di averci portato tanto buon umore. Grazie, grazie a voi. Come sempre. Quindi settimana prossima doppio appuntamento. Il 31 nel pomeriggio e il 3 al pomeriggio, ma non alle 18, perché alle 18... Abbiamo gli uomini, le donne e i candidati per le elezioni. Allora, Ornella, grazie davvero. Quando fra 40 anni mi candiderò anch'io, verrò qua anch'io. Dal 13 di febbraio torna il Super Cuciverba, tutte le settimane garantito un giorno, e lo faremo probabilmente il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera ci sarà l'asciura alle 18. Dopo le elezioni, adesso le elezioni hanno sconvolto un po' tutto, ci hanno portato anche dei soldini, devo dire la verità, e che per una radio commerciale va bene, perché non viviamo solo di gloria. Anche perché il Cruciverba di soldi non ne porta. Viviamo anche di soldi, dillo all'amministratore, che poi è lui che li amministra, quindi però ecco, va bene. Ecco perché a volte ci seguono pure male, l'acqua a quinta da nè. A quinta da nè, a quinta da nè. Magari, va bene. Allora, grazie a tutti, un saluto, grazie Ornella. Grazie a voi.